Good morning Sì Qui sono le 11 E come dico in questi casi Certo, non prego una mattina prestissima Una mattinata in altrata, ma comunque mattina Mister, master, maestro Oh, semplicemente Oh, semplicemente David Lynch It's May 2 2022 And it's Monday It enables Clear This moment, clear, very clear Morning, very still right now And 68 Fahrenheit Around 20 Celsius And This means that it's that day really, really Really, really soft Like in this day In this period I think I'm also a bit over Because it's more a summer climate In the spring climate But io Purtroppo Today Day 6 Of the fever E quindi avendo la febbre ancora Non sento completamente questo caldo Ho già detto ieri Una sensazione un po' particolare Sto provando Comunque In this moment As riguarda the fever 37 And 76 Degrees Quindi Ieri pensavo che si sarebbe tolta In realtà già l'altro ieri Ma La febbre è così lunga Come ho andato a vedere i report ieri Come ho detto già Non la vivo da tempo Ho perso il punto di quando non la vivo Comunque Mercoledì Se ce l'avrò ancora Saranno 8 giorni Che ce l'ho Quindi oggi Il giorno 6 Vabbè Ma allora che si tolga domani Lo so Vedremo Per quanto riguarda il video Tutto Non so se lo faccio Ma nel caso lo faccio Ovviamente È sempre separato da questo Quindi occhio Anyway I see and you all Just see From the window I think that this afternoon Temperature Potrebbe ancora salire Però Sì Potrei dire che With this atmosphere We are going to be enjoying Those beautiful blue skies And golden sunshine Però da quello che ho letto In realtà non mi fido Perché Ho letto che Si potrebbe Si rannuvolerà Il pomeriggio Quindi Al momento non mi fido Completamente Per cui Vedremo Per cui Say that is So from the mythical window With the Orange Red Blue Green Water Curtain And it's Green roller Shooter And me On the top Not visible And in fact Turn in the shot And finally From my mythical keyboard Di Amante GX 640 IPG 625 Eva A great day In all the people Who follow The channel In the reports Un saluto A tutti And also I hope You all A great breakfast Io la farò Tra poco Il mio stomaco Brunta Anche se Ho la febbre Ho fame Poi soprattutto Spero vi possiate Consolare Appunto Con la colazione Qualora Le vostre parti Il tempo E se essere brutto Ci vediamo Al videotuts Nel caso Lo faccio O domani Sperando che sto Meglio Fili definitivamente Ho la fin